In questo video andiamo a vedere le mie ultime due operazioni short su sterline a dollaro e sul gold che sono state ovviamente chiuse a costo operativo, anche perché il mercato, come possiamo vedere, come ben sappiamo, è andato praticamente completamente contro il dollaro americano. Ben ritrovati in questo nuovo video, sono Damiano Zito, price action trader indipendente, membro e collaboratore di questa community, quella che vedi è professione trader, una rubrica dove racconto un mio diario di trading con un conto reale che ho aperto come fase esperienziale del percorso di accademia che ho intrapreso in Airforex. Allora, come dicevo, come potrebbe aver intuito chi segue questa rubrica, le ultime due operazioni si sono chiuse con un bel costo operativo e lo possiamo andare a vedere direttamente dal diario di trading. Allora, il diario di trading che mostra, adesso sono sul secondo trimestre, quindi le ultime due operazioni sono l'oro e la sterlina, su entrambe le operazioni avevo deciso di fare degli incrementi, quindi avevo portato praticamente un rischio complessivo su ogni singola operazione di 400 euro e quindi ero esposto per 800 euro di rischio con un nozionale di circa 30-31 mila euro sul mercato con i due asset. Quindi qui c'è la storia degli incrementi, quindi per quanto riguarda l'oro da un rischio iniziale di 250 euro avevo fatto un secondo incremento in termini di nozionale di 3.700 euro, quindi portavo a 400 euro di rischio e quindi chiudo il costo, diciamo, chiudo il trade con 305 euro al netto degli interessi, 388 euro e 92 per quanto riguarda invece il trade su sterlina dollaro, quindi un costo praticamente pieno su sterlina, quasi pieno sull'oro. Quindi un costo operativo che, insomma, per gli amanti delle percentuali siamo a meno 10.65, meno 1.000 euro e 61 su questo conto rispetto, quindi il capitale iniziale a meno 10.65, sicuramente un drawdown importante dal punto di vista di percentuale e che, insomma, come esperienza in questo caso è stato, diciamo, dal punto di vista emotivo quello che mi porto è l'avere incrementato due trade contemporaneamente, due trade che non erano proprio in profitto, erano praticamente il leggero, il leggero gain e che avevano avuto sicuramente le conferme in linea con il mio metodo, ma che siccome mi trovavo fuori dal mio habitat naturale come trader che questo setup mi hanno portato un po' ad essere disorientato su quello che poteva essere e che avrei voluto fare come gestione attiva dei trade una volta che in realtà il prezzo è andato contro. Infatti, diciamo, più che loro in realtà quello che è stato più, che mi ha fatto soffrire più emotivamente in realtà è stato il trade sulla sterlina, lo andiamo un po' a vedere. Il trade sulla sterlina infatti è stato praticamente incrementato su questa ulteriore conferma che era una pinbar che andava a confermare l'abbandono della zona 1,27, io quindi ho incrementato la mattina del 2 luglio, quindi alla rottura di questa pinbar ho fatto un ulteriore incremento e ho portato questo trade con un rischio praticamente a circa 28,30, anzi, top 30, qui sopra, a 400 euro di rischio, quindi avevo 400 euro su questo mercato. Non mi era piaciuto chiaramente, allora, la close del 2 luglio, avevo visto, era sicuramente importante, sapevo, poteva portare un po' di rialzo, poteva feicare magari il massimo di questa pin, però, diciamo, la close del 3 luglio è stata quella che non mi è piaciuta per niente perché aveva praticamente invalidato questo massimo, quindi aveva sicuramente invalidato il mio incremento, tornavo sopra la zona 1,27 e stavo un po' per cambiare la figura settimanale. L'esperienza che mi porto da altri trade è che comunque, quando si creano queste situazioni, questo potrebbe essere una trap bar e quindi rimango fermo almeno al momento, il 4 luglio, quindi rimango fermo, tra l'altro qui non c'erano tanti scambi perché era una giornata di festa per l'America, quindi avevo bisogno però di capire se questa era una trap bar oppure no. Però devo dire che dal punto di vista emotivo di gestione, l'incremento di questo rischio non mi ha fatto stare molto tranquillo. L'idea era, quindi, nella giornata, mentre ero comunque fuori, avevo pensato di fare qualcosa qui, però, appunto, c'erano pochi scambi, non aveva senso. La mattina del 5 luglio avevo pensato di ridurre praticamente la mia esposizione, quindi togliere rischio, togliere l'incremento, l'apertura. Poi, appunto, ero fuori e effettivamente non ho fatto poi questa decisione che avevo anche scritto, ma poi ho rimosso e quindi non ho intrapreso questa azione che consisteva nell'andare a togliere l'incremento che ormai praticamente perdeva questi 130 pips, che poi sono diventati praticamente 130 più 157, quindi 130 più 157, 187 pips di rischio aggiuntivo. Avrei risparmiato, quindi, 57 pips togliendo l'incremento. Però, perché volevo togliere l'incremento? Perché effettivamente non ero più in gestione regolata, diciamo così. Ero... non mi piaceva più, quindi, diciamo, ero entrato nella sfera di coinvolgimento, anziché quella di influenza. Non ero più veramente in pieno controllo del mio trade. Ho rotto forse il mouse. Quindi che succede? Succede che poi alla fine decido di lasciare andare il trade, o comunque sono fuori alla fine in end of day. Chiaramente il mercato qui mi sta dicendo con questa chiusura bullish dopo questa rottura a rialzo, ovviamente. Insomma, il mio stop è ormai colpito, quindi non ha più senso di rimanere. Chiudo, ho chiuso praticamente in end of day sia la sterlina sia l'oro. Devo dire che avevo pensato anche di fare un'ulteriore gestione, che era quella di andare a vedere come chiudeva la giornata allargando lo stop. Quando mi è venuto questo pensiero ho capito che... cioè, in quel momento non era effettivamente molto, molto lucido, e quindi ho optato per lasciare le cose come stavano, attendere l'end of day, spostando la mia attenzione altrove, e poi ho chiuso questo costo operativo. Anche perché allargare lo stop avrebbe comunque significato, per quella gestione che avevo voluto fare, chiudere più o meno al costo operativo che ho registrato. Cioè, ridurre l'incremento, allargare lo stop, comunque portava in sé il costo attuale, perché l'idea era vedere se qui il prezzo aveva modo di ritracciare, ma poi, come possiamo vedere, ha avuto ancora forza il mercoledì, è andato a rialzo, e quindi, insomma, sarei rimasto veramente con una gestione speranzosa, un po' impacciata, maldestra, quindi meglio uscire, avere il coraggio di uscire, prendere, incassare il costo come previsto, capire qual è, stando eventualmente, diciamo, l'informazione che mi porto da questa gestione, come anche motiva del trade è calibrare meglio il rischio, la situazione quando voglio effettivamente portare al rischio massimo i miei trade. Per quanto riguarda poi, chiaramente anche l'oro, si è chiuso praticamente il 5 luglio, chiuso praticamente il end of the day, anche qui la situazione è abbastanza analoga a quello che poteva andare a verificarsi sulla sterline, quello che era possibile tra bar, si poteva verificare anche sull'oro, però anche qui questa close bullish è stata decisamente importante, è vero che il lunedì c'è stato questo recupero al ribasso, però poi come possiamo vedere c'è stata, diciamo, questo è stato solo un ritracciamento, quindi mini FTV, ricostruzione rialzista per andare adesso sui massimi del range attuale, quindi insomma sicuramente un mercato che è tornato in forza, siamo ancora in range, ma che stanno andando ad attaccare probabilmente i massimi storici. Quindi questa è la situazione sui due trade, ho ricevuto anche dei commenti interessanti ai miei video, alcuni critici, ci sta, sono confronti ben accetti, altri commenti meno critici, alcuni possono far anche male, nel senso che sicuramente quando si è in una situazione che magari non è in equilibrio, come non lo sono stato io in quel momento, perché emotivamente ho avvertito qualcosa, non sono stato tranquillo in queste due gestioni, sinceramente, quindi qualche commento probabilmente in quel momento non è stato accolto da me in maniera tranquilla, però insomma sono cose che insomma nell'esport si fanno, come dire, fanno esperienza, io non sono qui per dimostrare niente, però mi serve diciamo questa esperienza per apprendere sicuramente qualcosa. Poi andiamo invece al trade, il primo trade di questo nuovo trimestre, che è un trade sul petrolio. Trade che è stato ovviamente pianificato nelle settimane successive, già a partire da questo rialzo, che possiamo vedere sul settimanale, il mercato aveva iniziato da inizi di giugno a mostrare praticamente segni di un possibile, di un possibile allungo, quindi un possibile ritorno long, e quindi ha chiuso poi un mese, una mensilità veramente bullish, con questa candela outside, che recuperava praticamente un ribasso importante. Il mensile è stato convalidato, il settimanale mostra appunto questo recupero, la rottura di questo massimo, e nella giornata, andiamolo a vedere, del 10 luglio c'è stato un primo trigger che ho deciso di acquistare. Ho fatto un ingresso limite, 81,67 circa, e ho un posizionamento di rischio, diciamo uno stop che è praticamente qui sotto, di circa 200 euro in questo caso, anche perché la situazione si è venuta a creare qui, mi dava l'idea che potesse ancora andare a falsare tutta questa zona, sicuramente questo minimo, dopo la rottura. Tant'è che il prezzo si ha convalidato, ha fatto una bella dinamica, ma nella giornata di merdi ha chiuso in questo modo. Io ho lasciato il mio piano operativo long, probabilmente, eccolo qui. Non mi sarei mai messo short se non fossi long da qui, perché chiaramente c'era poco spazio, a meno di andare a prendersi questo, ma l'idea è che qui effettivamente, diciamo, la zona, la zona adesso, diciamo, è quella dove o il mercato mi mostra una denuta con un fake, e anche eventualmente la possibilità di fare l'incremento con un accorciamento dello stop, chissà, non lo so, oppure potrei decidere di anche abbandonare questo trade e attendere qualcosa sul settimanale di più confermativo, perché sicuramente dal punto di vista weekly, eccolo qui, il settimanale è ancora long, abbiamo tutta questa zona di ex massimi, questa close 79, comunque zona 80, 79,20, 89,80, gli 80 dollari, che possono essere ancora zone, zone acquistabili, zone dove il prezzo può andare a testarle, ma potrebbe esserci un ulteriore ritracciamento, che sarebbe poi il ritracciamento del mensile, il 38,2, che è la zona, la zona pivot. Quindi cosa potrebbe succedere, diciamo, lo scenario è che qui si abbia ancora un ulteriore ribasso, per esempio magari una settimana di questo tipo, magari, e solo successivamente una close un pochettino più bullish, quindi la settimana magari ancora quella dopo, bianca, qualcosa del genere, allora a quel punto potrei pensare di tornare, tornare a riacquistare il petrolio, magari sempre agli stessi livelli, quindi più o meno qui, qui, eccetera, o più in basso, però magari con una conferma settimanale migliore, quindi con un trigger sul settimanale, però lo stop appunto tiene conto del fatto che ci potrebbe essere ancora questa fase, quindi andrò comunque a gestire, sulla base della price action si verrà a creare, quindi le dinamiche di prezzo si verranno a creare, più o meno sulla zona dove ci troviamo in questo momento, la zona attuale, quindi tra gli 80 e 79 dollari, 79,50, ecco questa zona qui, andremo a capirlo, probabilmente lo vedremo nel prossimo video, quelle che saranno poi le mie future decisioni. quindi questa è la situazione sul mercato in questo momento, non ho altri trade in atto, anche perché insomma, per quanto riguarda il valutario, adesso attenderò una fase di distorno, se ci sarà, su Euro, Stellina, Australia, per valutare poi dei long successivamente, sono flat sull'S&P 500, probabilmente il DAX se mostrerà qualcosa, potrei fare qualcosa di long, quindi per chi insomma è arrivato a questo punto, io vi ringrazio ancora per aver visto questo video, vi invito sempre a lasciare dei commenti, commenti qui sotto, se vi è piaciuto, comunque per supportare insomma la continuità delle pubblicazioni, anche un mi piace, l'iscrizione a questo canale, io vi ringrazio come sempre, vi saluto e vi auguro buon trading, alla prossima, ciao!